Nel video di oggi andiamo a vedere un errore banalissimo ma diffusissimo fra la maggior parte degli uomini e se tu lo stai facendo lei molto probabilmente penserà che sei uno stramboide. Io sono Joe e questo è Seduzione Attrazione. Qual è questo errore così comune, così banale, così semplice da correggere per un certo qualverso che moltissimi uomini fanno, potresti star facendo anche tu e che uccide le tue conversazioni facendoti sembrare oggettivamente strano agli occhi della ragazza. L'errore in questione è non ascoltare quello che la ragazza sta dicendo ma essere nella tua testa e continuare a pensare continuamente a qual è la prossima cosa che devi dire. Cioè non prestare completamente attenzione a quello che la ragazza sta dicendo perché sei già con la tua testa quello che devi dire dopo. E indovina cosa succede se tu fai questo banalissimo errore. Se succede che lei dice una cosa, tu ne dici un'altra che è assolutamente scollegata perché non hai prestato attenzione a quella che era la conversazione per un discorso di nervosismo interno, la ragazza può capire benissimo che questo è dovuto a un problema di nervosismo. E indovina un po' cosa succede quando la ragazza vede che si è nervoso immediatamente capisce che sei un maschio di scarso valore perché il fatto stesso che tu sia nervoso mentre parli con una ragazza denota che non senti di avere il valore per essere lì a parlare con lei o che hai avuto esperienze negative in passato e questo comporta che la ragazza immediatamente ti scarta semplicemente perché hai fatto un errore così banale. Voglio dirti la verità, non è in realtà così banale. All'inizio, quando stai imparando queste cose e sei nervoso è molto meno che banale perché è un qualcosa che capita e che è difficile da controllare perché non si tratta di applicare una tecnica ma di controllare quello che è il tuo stato emozionale ma è un qualcosa che devi fare pratica e devi imparare. Ok, prima di andare ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi diventare un maestro della conversazione ho creato una serie di video gratuiti proprio su questo argomento. In questi video vedrai vari filmati di approcci di ragazze dove uso le tecniche di conversazione e poi te le spiego passo passo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.